Ministro, scusi, siamo in diretta sulla Sette. Posso fare una domanda? Lei prima ha parlato di condono, in realtà l'avete chiamata pace edilizia, ha detto che siate agli ultimi tasselli per il testo. Questo testo è stato già condiviso con la maggioranza di governo oppure no? E quali sono i prossimi passi? No, lo stiamo definendo perché ci stiamo lavorando da mesi, non da giorni. Ci stiamo lavorando con gli ingegneri, con gli architetti, con i notai, con gli agenti immobiliari, con il mondo delle cooperative, dei sindacati, con Confedilizia, con i proprietari di case, con i comuni che hanno gli uffici intasati da migliaia e migliaia di pratiche. Quindi siamo agli ultimi confronti, agli ultimi consigli. Quando il testo sarà completo lo condivideremo con tutti gli alleati e anche con le opposizioni perché penso che sia un'opera di giustizia sociale, di equità, di buonsenso. Nel frattempo ringraziamo per averlo condiviso con tutti noi, con i giornali, con tutti noi. Quindi per quello che ha fatto il nonno, ha fatto il precedente proprietario, ha fatto la sorella, ha fatto il precedente inquilino, il bagnetto, la cameretta del bambino, la finestra che nella piantina originaria era a sinistra e invece a destra la veranda. No, no, perché la lista la capisco, però ha fatto anche la lista di comuni e regioni, ma non ha quindi condiviso il testo con gli alleati di governo? Il testo è pronto? Dove è il testo? No, ho detto che ci stiamo lavorando, conto che entro pochi giorni sia definito in bozza e poi quando io ho un testo da condividere, lo condivido. Non posso condividere delle impressioni o delle slide. Quindi a noi sta dando delle anticipazioni, in questi giorni ha dato delle anticipazioni. E appena sarà pronto, ripeto, lo condivideremo. Io ho raccolto tantissimo entusiasmo e tantissimo sostegno anche da amministratori vocali del PD, perché qua solo in Comune Romani risultano già 170 mila pratiche di Sanapoglio. De Caro e voi capite, l'ha condiviso con tutti, con lei no mi sa, neanche con la Premier Salvini il testo? No, no, con me sicuramente no, neanche con il Parlamento, neanche con Giorgio Meloni che non ne sapeva nulla.